Dicevamo prima, siamo in questa fase nuova in cui l'Occidente non è più aspirazionale, che è una cosa molto difficile da accettare per un Occidente che in questi ultimi decenni è stato abituato a gestire e anche a comandare il mondo, perché poi è successo questo. Quindi la fase che si apre sarà sempre più complessa, sempre più di incontri-scontri che noi dovremmo evitare di farli diventare degli scontri a proposito del fatto che non esiste una sede in Europa dove si possono incontrare Putin e Zelensky, anche questo è un dato importantissimo sia per la parte religiosa ma sia per il fatto che l'Occidente forse in questo momento non può essere un vero interlocutore di Putin, mentre ci sono altri paesi che non sono occidentali che hanno un dialogo in qualche modo privilegiato con lui perché parlano un po' la stessa lingua. Tranne Macron che lo sente tutti i giorni nel telefono. No, ma Macron infatti secondo me si sta dando molto da fare, ma poi alla fine... Ma anche le elezioni, quindi alla fine ognuno ha un tornaconto, diciamo così, perché anche questo va detto. Assolutamente, ma alla fine probabilmente chi in questo momento può effettivamente parlare con Putin al telefono con un dialogo che è efficace o comunque di due persone che si ascoltano non sono i leader occidentali, non è sicuramente Biden che abbiamo visto insomma anche in questi giorni ha creato un po' di malumori anche in Europa perché giustamente l'Europa è molto più vicina quello che sta accadendo rispetto agli Stati Uniti, ma probabilmente Erdogan, Xi Jinping, cioè sono altri gli attori che in questo momento hanno forse un potere più persuasivo, dissuasivo rispetto agli leader occidentali. Quindi è proprio un cambio dal mio punto di vista abbastanza epocale. Da questo punto di vista il tramonto delle Nazioni Unite, che in questa vicenda è drammatico, anche le divisioni al Consiglio di Sicurezza e sul voto della risoluzione che abbiamo qualche volta citato, ricordando che un certo numero di paesi, che la gran parte dell'Assemblea, però alcuni hanno scelto una linea più filorussa, ma ha occupato poche righe a pagina 18 di un ideale giornale della crisi. Le Nazioni Unite, che sono una creatura multilaterale, ma in realtà attrazione euroamericana dal punto di vista delle decisioni, non riescono a giocare alcun ruolo in questa storia. Ma infatti la Cina aveva motivato la sua stensione dicendo che la risoluzione non è stata condivisa con tutti i membri e questa cosa non funziona più. Bisognerà cambiare, ad esempio tutti usiamo la parola guerra fredda, che secondo me anche quello è sbagliato, perché la guerra fredda riporta alla mente un'epoca in cui c'erano dei blocchi separati. Non è più così, siamo tutti interconnessi. I cinesi, io lo scrivo nel libro, la chiamano la pace calda, questa nuova fase, perché usare anche le parole diverse, secondo me ci fa capire che siamo davanti a cose diverse. Anche la pace, tu dicevi prima, ognuno interpreterà la pace a seconda. Ma è molto vero questo che dici Giada. Ricordiamoci che negli anni della guerra fredda era quasi impossibile telefonare tra l'Europa e Mosca. Esatto. Non c'era un numero telefonico da comporre per chiamare di là, tranne gli alberghi internazionali. Se così ci rendiamo conto di che cos'era... Anche economicamente, appunto, non poteva essere già dipendente dalla Russia. Professor Cella, su questa parte di Europa vengo anche a lei, perché...